Comandante, c'è un piano per garantire la sicurezza sul Capodanno che vede al lavoro anche i carabinieri naturalmente? Sì, già da tempo si sta lavorando sul piano di sicurezza, è un piano che ovviamente ha visto la costituzione di un tavolo tecnico per esaminare tutti gli aspetti, soprattutto quello che attengono ovviamente all'afflusso dei cittadini e dei turisti che arriveranno. L'obiettivo è la sicurezza e quindi tutti noi saremo impegnati con forze straordinarie perché tutto avvenga nella maniera più tranquilla possibile. E c'è un messaggio in particolare che vuole inviare ai cittadini perché è necessario che anche loro collaborino per tutelare al meglio l'ordine e la sicurezza? Festeggiare con responsabilità, è un momento di festa, dopo il periodo pandemico tutti noi abbiamo voglia di festeggiare ma serve sempre una responsabilità di adulti anche per una responsabilità nei confronti dei nostri figli e dei più giovani. Se i giovani hanno degli esempi positivi potranno trasmettere ovviamente di conseguenza.